Il Presidente del gruppo parlamentare Scelta Civica per l'Italia, con lettera pervenuta in data odierna, ha reso noto che l'Assemblea del gruppo ha modificato la denominazione del gruppo stesso in civici e innovatori. Comunico che l'Ufficio di Presidenza nella riunione odierna, a norma dell'articolo 14,2 del regolamento, ha deliberato di autorizzare la Costituzione del gruppo parlamentare Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia, Maie. Tale gruppo è convocato per domani, 13 ottobre 2016, alle ore 10, per procedere all'elezione del Presidente e degli altri organi direttivi. Approvazione in Commissione. Il Presidente comunico che nella seduta di oggi, mercoledì 12 ottobre 2016, la seconda Commissione di Giustizia ha approvato in sede legislativa la seguente proposta di legge. Allora, modifiche all'articolo 609 septis del Codice Penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni, alla quale sono state abbinate le proposte di legge numero 3873 Becchis e 3939 Brignone. Siamo agli interventi di fine seduta. Chiede di intervenire la deputata Donatella Duranti. Prego, deputata Duranti. Dov'è? Non la vedo. Non c'è. Allora andiamo oltre. Andiamo oltre l'altro intervento del deputato Davide Crippa. Prego, deputato Crippa. Colleghi, se potete uscire però in silenzio, perché non si capisce, altrimenti. Ci provi, ci provi, deputato Crippa. Io ci provo. Rileviamo che dal sito Invest in Italy e nella brochure distribuita agli imprenditori qualche tempo fa, dal Governo in occasione della presentazione del piano Industria 4.0, ma anche durante le audizioni che ci sono state la scorsa settimana con il Ministro Calenda, veniva fatto un vanto della questione che un ingegnere guadagna mediamente 38.500 euro.